Buongiorno amici di Colpo d'Occhio, oggi siamo a Rione Alto in un quartiere di Napoli e il nostro scopo sarà quello di intervistare tantissime persone per sapere i loro pronostici riguardo la partita che sarà giocata il 22 dicembre. La partita come ben sappiamo è la partita di Supercoppa che vedrà protagoniste due squadre veramente forti, stiamo parlando del Napoli e della Juventus, corriamo subito a chiedere qualche informazione. Entriamo e chiediamo qualche informazione, buongiorno, salve possiamo disturbarla? Sì, prego. Senta, immagino che voi siete tifosi del Napoli. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Eh, purtroppo, no? Un po' delusi, un po' delusi del campionato però siamo sempre tifosi. Noi volevamo chiederle, stiamo qui proprio per chiederle più o meno cosa pensa qualche pronostico riguardo la partita che sarà giocata lunedì 22. Spero di vincere, pronostico 2-0 del Napoli. Secondo lei chi segnerà? Mi auguro Amsic e Guain. Se il Napoli gioca da Napoli, veramente non ce n'è per nessuno. Se invece il Napoli gioca come le ultime partite che ha giocato con il Chievo, il Cagliari, il Palermo, allora veramente meglio che a Doha non ci andiamo proprio. Perché onestamente il Napoli è una squadra che se la può giocare con la partita secca con tutti. Però deve giocare da Napoli. Se invece, insomma, pensiamo a chi vuole l'ingaggio più alto, a chi vuole andare via, allora onestamente la Juve ci travolge, ci fa fare una figura barbina. E torniamo da Doha come siamo tornati da Pechino l'anno scorso, due anni fa, con le pive nel sacco. E quindi il suo augurio ovviamente è che il Napoli faccia una bellissima partita. E su chi punta? Io sull'orgoglio di Amsic. E onestamente anche Maggio mi sta un po' deludendo. Vorrei che in Maggio e Amsic fossero i trascinatori di questa squadra, diciamo quelli che sono rimasti dell'era Mazzarri. Quindi mi auguro che veramente torniamo da Doha con la Supercoppa. Sempre forza Napoli! Amici, cerchiamo subito qualche altro intervento, qualche altra personcina. Salve, buongiorno. Io mi permetto di farle una domanda. Prego. Un pronostico riguardo la partita di lunedì 22. Napoli-Juve, 2-0 per il Napoli. E chi segna? E Higuain. Ah, perfetto, quindi netto. L'uno al ventesimo e l'altro al novantesimo. Forza Napoli! Allora ce la giochiamo questa bolletta? Esattamente, adesso vado. Eh, subito, corriamo! Buongiorno signora, vogliamo sapere un piccolo pronostico riguardo alla partita di lunedì 22. 2-0. Chi segna? Higuain. Ok, tutti e due. Sì, va bene, grazie. Forza Napoli! Con tutte queste belle, signore, un bel Forza Napoli, ok? Al mio 3. 1, 2, 3. Forza Napoli! Eppure chissà cosa avrebbe pensato Totò, eh? Boh, speriamo bene. Il caffè sta uscendo. Dove siamo? Siamo al White Café, in via Giulio Palermo. Io ho la vaga sensazione che sia veramente buonissimo. Siamo un servizio veramente perfetto, soprattutto da notare la confidenza che ci stanno dando. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Possiamo chiedergli un pronostico riguardo alla partita di lunedì 22? Napoli-Juve. Secondo me il pronostico sarà che Napoli vincerà. A quanto? Ma penso un 3-1. Ah, 3-1 addirittura. E chi segnerà? Gol di Amsic, Higuain e Mertens. 1-0, primo mercatore Coulibari. Al novantesimo. Ok, quindi tu ci dici che possiamo giocarci questa bolletta? Come no? Già ce l'ho giocata pure. Ah, ok, grazie. È veramente buono, ve lo consiglio. Allora, mi chiamo Raffaele. Secondo me Napoli vincerà un 3-1 facile facile per riscattarci di quello che ci hanno rubato 2-3 anni fa. Vinciamo 3-1 Higuain, primo marcatore, Amsic e Caléon terzo. E forse subiremo un gol da Tevez, ma forse. Forse, forse. E invece tu cosa ci dici? Per me sarà dura la partita. Vinciamo 1-0 al novantesimo. Gol di Gargano. Continuiamo ad ascoltare i nostri carissimi tifosi. Buongiorno. Senta, cosa ne pensi della partita di lunedì? Quale sarà il risultato finale? Secondo me il pronostico quasi sicuramente sarà una vittoria del Napoli. Anche se sofferta, ma comunque il Napoli vincerà. Questo ne sono convintissimo. E quanto vincerà? Ma guarda, la mia è secondo me 2-1. 2-1. E chi segnerà? Chi segnerà? Il Cajéon, sicuramente. E spero in Higuain. Ok, quindi noi un bel... Forza Napoli. Forza Napoli, sempre, sempre Napoli. Tabacchi Sorbino. Signora, lei è tifosa del Napoli? Certamente. Signora, cosa pensa di questa partita che sarà combattuta tra Napoli e Juventus? Vincerà sicuramente Napoli. A quanto vincerà? 3-0. 3-0. E chi segnerà? Amsic. Tabacchi Sorbino, siamo ancora qui. Facciamo un bel giro in questa tabaccheria che, come potete vedere, è abbastanza funzionale, abbastanza accogliente. Quindi tra pochissimo intervisteremo anche gli altri proprietari e dipendenti. Iniziamo con lei. Sì. Una piccola domandina. Cosa pensa? Quanto finirà la partita di lunedì? 2-1. 2-1 per il Napoli. E chi segnerà? Amsic e Higuain. Ok, quindi possiamo giocarci questa bolletta? Come non ce la potete giocare, assolutamente sì. Amici di colpo d'occhio, stiamo giocando la bolletta. Con tutti questi pronostici, ragazzi, cosa vincerà? Cosa faremo? Cosa farà questo Napoli? Mary, tu cosa pensi? Che vince 1-0. E chi segna? Amsic. Amsic, Calo Mary. Noi ci giochiamo questa bella bolletta e se prendiamo ce la dividiamo pure. Va bene. Intanto un bel saluto a colpo d'occhio. Ciao colpo d'occhio. E sempre forza Napoli. Forza Napoli. Ciao. Amici di colpo d'occhio, siamo arrivati al caseficio Fierro. Ora continuiamo le nostre interviste. Buongiorno. 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 Salve signora. Lei è tifosa del Napoli? Sì, tutti in famiglia. E senta, come crede che finirà la partita di lunedì? La vittoria del Napoli, naturalmente. E chi segnerà, secondo lei? Allora, i miei preferiti, Wayne e Amsic. Amici di colpo d'occhio, siamo sempre verso il caseficio Fierro. Ci hanno fatto a stagione delle cose veramente deliziose. Quindi vi consiglio mozzarella di bufala e tanti salumi. Allora, tutti gli amici di colpo d'occhio, ciao da Fierro e forza Napoli sempre. Caro Totò, che il Napoli e la Juve siano due rivali, ci si sa. Che entrambe vogliano l'egemonia sul campionato, pure ci si sa. Mettici tu la buona parola e speriamo sempre forza Napoli. Grazie.